Belen e Emma duetto a sorpresa tra battute e provocazioni Belen e Emma protagonisti di un insolito siparietto nel corso della sesta puntata di Amici 17 Dal doppio ex in studio al duetto con Belen Rodriguez, lesperienza di Emma Marrone nella commissione esterna di Amici 17 si è conclusa con una sorprendente esibizione. Tra gli ospiti della sesta puntata del talent show, oltre a Michelle Hunziker, Il Volo e Luca Argentero, c'era Belen. La Salentina si è ritrovata nuovamente faccia a faccia con l'ex rivale in amore con la quale non erano mancati i contrasti in passato. Entrambe le artiste, infatti, sono state legate sentimentalmente a Stefano De Martino. Emma aveva conosciuto il ballerino durante l'esperienza da allieva ad Amici. Tra i due il feeling era stato immediato e la relazione sembrava andare a gonfie vele fin quando il napoletano non ha incrociato Belen sulla sua strada. Una passione folgorante con il napoletano che decise di interrompere bruscamente la relazione con la cantante. Un colpo basso per la musicista che aveva sognato di costruire un futuro importante con De Martino. Quest'ultimo invece ha portato all'altare la Rodriguez ed è successivamente diventato papà di Santiago. Maria la tocchi sempre piano. La favola d'amore non ha avuto un lieto fine con i due artisti che hanno deciso di prendere strade diverse. Nel corso della puntata del 12 maggio Maria De Filippi, video, ha riservato uno scherzetto niente male a Belen e Emma. La showgirl argentina è stata protagonista di un esilarante lip sync nel corso del quale è stata invitata dalla conduttrice ad imitare la marrone con tanto di parrucca bionda. Prima dell'esibizione della sudamericana sulle note di Amami la cantante si è rivolta ironicamente alla presentatrice, Maria tu la tocchi sempre piano. La Rodriguez ha provato ad immedesimarsi nell'ex rivale ma è stata subito richiamata da Emma, io non ho la camminata così figa. Pronta la replica dell'argentina che ha sottolineato di non avere la voce della musicista. Io non cammino così. Alla fine la De Filippi non ha convalidato la prova di Belen per aver fatto cadere la parrucca. La Rodriguez è tornata al centro dello studio per il bis di Amami ed è stata raggiunta a sorpresa da Emma con la quale è stata protagonista di un inaspettato e desilarante duetto. Un segnale di distensione dopo anni di frecciatine e polemiche. Il finale non è stato contraddistinto da baci e abbracci ma Emma e Belen hanno risposto al meglio alla provocazione di Quea & Mary. Da rilevare che nelle scorse puntate la vincitrice del Festival di Sanremo 2012 si era ritrovata in studio con gli ex De Martino e Bocci ed anche in quel caso non erano mancate le punzecchiature. Grazie. Grazie a tutti.